Perché cercate tra i morti colui che è vivo? C'è, esiste, vive ma non qui. Va cercato altrove, diversamente, è in giro per le strade, è il Dio da cogliere dovunque, eccetto che fra le cose morte. Perché Cristo è risorto? Perché un amore come il suo è più forte della morte, perché una vita come la sua non può andare perduta. Il vero nemico della morte, il vincitore, non è la vita ma l'amore. Nell'alba di Pasqua non a caso chi si reca alla tomba è chi ha vissuto e patito di più l'amore di Gesù. Le donne, la maddalena, il discepolo amato sono loro i primi a capire che l'amore vince la morte. E anche noi siamo nella vita per fare cose che meritano di non morire, per ricordare a noi e agli altri che nessun gesto d'amore andrà mai perduto. Così anch'io correrò come Maria di Magdala e le altre donne ad annunciare che lui è vivo. Lo dirò con trepidazione e gioia grande, nella casa e per le strade, lo dirò con la mia vita da salvato. Poi non dirò più niente.